Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per mezzi in lento movimento in direzione sud tra Firenze e Sud e in Cisareggello. In A12 segnaliamo controllo della velocità in corso tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Ci per lì restano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra le stazioni di San Piero Assieme e Campo Migliaio. Il treno 18-923 Firenze-Marradi sta viaggiando con 26 minuti di ritardo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo che sono in corso i lavori di rifacimento dell'acquedotto in via Bolognese e i percorsi alternativi sui nostri canali social. Aversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Aversi in Toscana, città metropolitana di Firenze